Che cosa pensi sui PIC all'età dei mini e se questo si può, attraverso di un regolamento, se si può sanzionare, se può essere vietato? Allora, intanto in Italia è vietato, in Francia è vietato, in Spagna sono vietati. Il problema è che prima devi insegnare a muoverti. Il PIC è un servizio che tu fai al tuo compagno per ricevere la palla. Prima di rendere un servizio devi mettere in condizione il tuo compagno di smarcarci per ricevere la palla. E quindi io sono dell'idea che prima di insegnare i blocchi dobbiamo insegnare qualcosa da altro. Dice che in Italia, in Francia e in Spagna sono completamente proibibili. Che la idea primero è insegnare al niño a muoversi, a desarrollarsi, a muoversi, perché la pantalla, il PIC, precisamente è questo, è una aiuta che tu vas a poner a un giocatore che sta in una situazione di peligro, di poco movimento. Quindi, no, lo che hai che fare è fomentar che il niño aprenda a muoversi con il ballone.